Eccoci qua! Buon pomeriggio! Vediamo, vediamo! Collegatevi! Salve! Buon pomeriggio! Qua! Ok, vediamo l'ondano! Benvenute! Ciao! Ciao Donatello! Gabriella ciao! Benvenute mamma oggi ragazzi! Cuccherine mie! Oggi una novità spettacolare! Ciao Celeste! Voi entrate! Io controllo un attimo qui! Eccoci! Eccoci! Salve! Buon pomeriggio! Benvenute! Oggi non cucino no? Non cucino cucino! Preparerò qualcosina! Grazie amore! State entrando? Pronte per oggi? Sono veramente contenta oggi! Ciao Gersonina! Ciao Gersonina! Ci siete Donzelle? Dai dai che aspetto giusto un altro minuto ma... Oggi scoprirete una cosa meravigliosa! Salve! Salve! Oggi il marito no! Oggi il marito no! Ho mandato in pensione! Eccoci! Eugenia oggi manca! Ciao Maria! Benvenute! Su su! Tancate! Tancate perché... Fremo dalla gioia di dirvi quello che oggi parte! Ma parte e finisce subito! Abbiamo due ore di tempo! Quindi non lo faccio non lo faccio non lo faccio! Dura due ore questa promo! Non di più! Quindi una volta terminata... Prendete la cornetta che la consulente vi aspetta! Ciao! Ciao a tutte! Buon pomeriggio! Taggate! Taggate! Sono le 34! Come scatta le 35! Inizio! Inizio nel darvi una bellissima notizia! Agosto è un mese spettacolare! Vacanze! E poi ci faremo... Insomma! Si va un po' in giro! E quindi perché non portare il nostro ottimizzatore? Ma quale? Che dite? Portiamo il tondo? O portiamo... Un guatondo? Ah! Vediamo che cosa esce oggi! Io sto cercando di leggere... Lì sul gruppo... Ciao belle! Ciao! Allora, mia chiale signore! Io dico di iniziare! Sono le 35! Ho atteso giusto qualche minuto per far sì che più persone entrano nella live! E cosa vi dirò oggi? Allora, la cosa bella, la cosa entusiasmante, la cosa fantastica che il nostro presidente abbia fatto è creare un coperchio, un ottimizzatore, non è un semplice coperchio, è un magic cooker, un ottimizzatore che va sul tondo e sul quadrato. Per questo non l'abbiamo chiamato quadondo. Lo conoscete in tante e in tante vi ho detto ma quando lo mettono in promozione? Ebbene, oggi vi farò vedere la nuova promozione per tutte le nostre clienti, per tutte le nostre amiche. Oh, i rubli di tambura! Il nostro quadondo misura 30, il misura 30, questo anziché, vi dico il prezzo da listino, oltre 90, oggi, solo per oggi, abbiamo due ore di tempo. Quindi già nella live scrivete alle vostre consulenti, solo per oggi, ripeto, due ore di tempo per avere questo a, guardate che meraviglia, a 29,90. Mai successo in magic cooker il nostro ottimizzatore è 30? Ben 29,90. Possiamo adattarlo perché è un meraviglioso quadondo, lo possiamo mettere, che dire, su una padella 20? Ma lo possiamo adattare tranquillamente, in maniera molto semplice. Abbiamo acquistato aria? Non è coperchio? Non c'è problema, guardate un po', anche con aria posso adattarlo. Oppure, non so, ho preso la wok, la wok obliquo che abbiamo noi, la wok, la padella obliquo che abbiamo noi, va anche qui, è spettacolare. Oppure, io le padelle al mare sono padelle normali? Diciamo pure. Guardate su una vento, posso adattare il mio ottimizzatore qua tondo. Questo è il bello del nostro ottimizzatore qua tondo, posso metterlo sul quadrato, posso metterlo sul rotondo. Va da 16 a 30. Da 16, da dove partono i fuoriventuri, fino alla fine io posso adattare varie pendole. Da 16 a 31, ripeto, solo per oggi, solo per oggi, massimo due ore e poi termina, abbiamo pochissimi, pochissimi pezzi. Quindi, il nostro ottimizzatore 30 ha 29,90. Pensate un po', quindi chi è già in linea può contattare le proprie consulenti e prenotarsi il proprio ottimizzatore. È veramente spettacolare. Una cosa che mi è stata, un qualcosa che mi è stato chiesto, ma l'ottimizzatore, il qua tondo, se io lo metto su una pentola più piccola, mi fanno lo stesso le cotture? La misura va bene, ma le cotture le fa? Che dite, la facciamo una cottura? Mi faccio una pasta, che me la fa sempre il mio papà, ed è una pasta con duia e melanzana. Nel frattempo, che ho lanciato la promo così sotto, potete scrivere, ok, ok, la voglio, ok, la voglio, possiamo, va, la possiamo fare pure qua, in questa meravigliosa padella. Cosa vado a fare? Allora, un filino di olio, e voilà, che qua ne esce poco. Devo vedere se escono domande. Metterò le melanzane. Ragazzi, questo è spettacolare. Io di fatti uso proprio questo in casa, perché mi va sia sull'uno che sull'altro. Mi va sia su un quattro che sul tondo, ma poi è 29,90. Non l'abbiamo mai visto, è una promo da urlo, e ve lo posso assicurare. Che faccio? Pettacolo qua. Non avevo messo la bamboletta. Scrivete, scrivete. Sì, la promo oggi! Il nostro quattro da 29 in domanda. Prenotatevi il vostro, meraviglioso, quattro. Ok. Al di sotto ci saranno le nostre colleghe, che vi indirizzeranno già alla vostra consulente. Non c'è problema. Bello, vero? Non messo su una semplice padella, ma 24. Pensate un po', e ci va tranquillamente. Sì, sì, tangate, tangate. Che io già mi preparo il resto. Vado a prendere il bicchiere che l'ho lasciato. Taggate, taggate, ma guardate che meraviglia! Guardate che meraviglia! Ci siete? Meravigliosa! Allora, io posso fare un po' di melanzana. Et voilà! Non appena si appassisce un po'. Ecco qua. Avete domande? Ripeto, a sole, 29 e 90. Che spettacolo! Sì, il coperchio ha un valore di 99,90. Sì. Ok. Ci si può comprare la pendola abbinata? Quanto costa? Allora, la promo signora, questa promo flash, questa promo bomba che dura per poco, è per l'ottimizzatore. Per le padelle o la pendola che vuole, può contattare la consulente e vi farà vedere le nostre pendole, che abbiamo anche in promozione, nella linea perfetta. Mi interessa? Ok. Contattate, scrivete, scrivete sotto. e contattate, se non avete una consulente di fiducia, che magari siete entrate nel nostro gruppo, non vi preoccupate, sarete contattate da uno staff che abbiamo all'interno e lì potete dire tutte le domande che vi vengono da fare inerente al nostro ottimizzatore, nonché anche l'adattamento delle pendole. Ok. Io però mi sto dettaggando tantissimo. Ok. Mi fa piacere. Perfetto. Perfetto. Io vado avanti. Le manazze sono un pochino grandine, ma va bene. Guardate che vi faccio. Aggiungiamo un pochino di acqua. Questo è un piatto che fa il mio papà, perché mio padre ama molto inventare in cucina. Poi non so, se lo avrà visto da qualcuno o qualche cuoco, lui lo fa subito. Ed è un piatto che viene fatto con l'anguia. Quindi sono melanzane con un filino di olio. Poi io di solito aggiungo un po' di aglio. qua. Vediamo. Ecco qua. Facciamo andare qualche giusto un minuto e aggiungiamo che il diametro di coperti è il 30. Quadrato 30. Va da 16 fino a 30. Potete adattare tante pentole. Per farvi vedere, io ho questo pentolino 16. Anche se... Ecco là. Guardate un po', anche se sta cucinando non va niente. Anche sul 16 posso tranquillamente metterlo. Quindi diametro a 30. 30. Io vado a leggere le domande, che oggi sono sola, quindi faccio l'una e l'altra. Poi, per questo è molto molto versatile in cucina. Adattando tante pentole, non abbiamo il problema. Non ho il coperchio per quello, non ho il coperchio per quello. Ho solo il quadondo, misura 30. È spettacolare. prego signora. Prego signora. Ok, vado a leggere lì. È spettacolare, comunque stavo dicendo. Quindi, già solo portando questa, vi copre veramente una quantità di pentole. Pensate un po'. Vado un po' a dare una controllatina alle mie melanzane. Ok. Io nel frattempo, guardate che fa, ho l'anduia. Un piatto leggero, leggero. Così, va a sciogliersi. Ecco qua. Mamma, che profumo. È meraviglioso. Se fate domande, perdonatemi. Ok. Allora, vado a vedere se ci sono domande. Avete domande? Avete domande? Vediamo, vediamo. State taggando tantissimo. Bravissime. Brave, brave. Perché questa è la promozione che dura pochissimo. Abbiamo pochissimi pezzi e quindi un lancio flash. Avete visto? Io nonostante la padella è piccola, io sto cucinando tranquillamente. Ok. Ah, la mia buia è bella scelta. Quindi ho messo buia e melanzane. Si vede? Si, si vede. Ok. Ci saranno le colleghe, se mi sfugge qualche domanda, tranquillamente vi risponderanno. Oh, grazie. Gentilissimo. Sentite come si sfuggerà per bene? Ok. Adesso poi la melanzana si scioglie. Eccocino. Eccocino. Prendo l'acqua qui. E andiamo a mettere la pasta. Ok. Ok. Solo tagli. 29,90. Sì, 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 sì. 29,90 euro. Per chi è già cliente da tempo può testimoniare che è una promo che non è mai successa. Quindi per oggi, ripeto, dura solo due ore. Prenotatevi il vostro ottimizzatore. Potete scriverlo anche in chat. Ok. Sono interessato. Oppure ok, lo voglio. E lo staff che è all'interno del nostro gruppo vi collocherà alla vostra consulente. E se non lo avete, qualcuna vi sarà trovata la vostra consulente che abita nelle zone. state eseguite sempre da qualcuno. Non vi lasciamo perse mai. Ok. Vado a mettere la mia pasta. Metto un bicchiere di acqua. Se la pasta non è poco. Poco qua. Non mi so perché l'ho già mangiata. Ecco qua. Se volete potete mettere un po' di sale. Oppure se l'anduia è bella saporita non c'è bisogno. Quindi ho cucinato la nostra melanzana viola. perché c'erano vari tipi di melanzana. L'ho sbucciata. E l'abbiamo messa ad asciugarsi un pochino. Ho messo un po' di acqua. Ecco qua. E l'ho fatta andare. Poi ho messo l'anduia. Adesso ho fatto sciogliere l'anduia. Una volta terminato questo ho messo la pasta. Già come vedete bolle. Alexa imposta timer 10 minuti. 10 minuti. A partire da me. Ok. Perfetto. Avete domande? Vediamo vediamo. Ok. Perfetto. Brava. Scrivetelo voglio. Perché ragazzi questo è spettacolare. Una volta che lo avete in mano. Vi renderete veramente conto. Di quando il rotondo è uno spettacolo. perché da noi non c'è solo il rotondo. Non può andare sul quadrato. Ma il quadrato sì. Sì il quadrato misura 30. Sì sì. Che meraviglia. È uno spettacolo. Basso la chiama perché è già bolle. Ok. Io vado a abbassare bene qua. Non vorrei. Ecco qua. Perfetto. Perché quando inizia a bollire la pasta. Come già sapete. Dobbiamo abbassare la fiamma. Basta. Basta. Sì sì signora. La contattiamo. Non c'è problema. Basta scrivere. Ok. Lo voglio. E. Bravissima. Così. E vi contatteremo. Andrà a ruba. Quindi. Come dicono le mie amiche. Ma lo dovete comprare. Ma lo prendiamo un po'. Allegro dai. Che oggi già fa caldo. Forza. Forza. Forza ragazze. Avete delle domande? Volete farvi qualche domanda in particolare? L'abbiamo messo su un pentolino 16. L'abbiamo poggiato su un pentolino 16. L'ho poggiato su chi per esempio ha acquistato aria. Eh. Vedete. Come versate alla grande al piccolo. Io. Fino. Alla misura. 28. Posso. Da 16. A 28. Posso tranquillamente. Adattare le mie pentole. O padelle. Che più mi piacciono. Basse. Alte. Largue. Strette. Ok. Perfetto. Tancate. Tancate. Signore. Belle. Perché è un'opportunità che sarà difficile che ci sarà di nuovo. Per chi è cliente già lo sa. Sei simbatico? Oh grazie. Grazie. Gentilissima. Troppo buona. Ok. Quindi stavo dicendo. È una promozione lampo ed è una promozione che non c'è sempre ma letteralmente. Allora. Sì. Giusto. Bravissima Maria Pedrilli. Stanno spiegando le spese di spedizione. Perché viene 29,90. Più le spese di spedizione. Ma come dico io. Alle mie clienti. Pagate tranquillamente. Volendo. Anche con carte. Risparmiate. Se uno non vuole. Il contrassegno. Che è un pochino più. E' un pochino più. Diciamo più alto. Volete che ve le spiego? Ve le spiego le spese. Pagandolo con carta. 29,90. Ci sono solo 6,90. Di trasporto. Pagando con contrassegno. Quindi. Vi arrivo a casa. E pagate al corriere. Sono 6,90. Di trasporto. Più 4,90. Il contrassegno. Quindi 11,80. Personalmente. Vi consiglierei con carta. Solo 6,90. Il trasporto. Perché quelle. Sono le spese. Che. I corrieri. Vi chiedono. Quindi. Semplicemente. Ciao. Allora. Sto preparando. Guardate un po'. Dei ligatoni. Con duia. E melanzana. Ok. Non so se è saltato. Ah ok. Stanno scrivendo le colleghe. Bravi. Bravi. Prenotate. 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 Poi. Scegliete voi. La forma di pagamento. Che più vi viene comodo. E siete a posto. Ve le ho appena spiegate. In caso. Basta rivedere la live. E vi vengono detto. Ok. Mamma. Che profumo. Eh. Melanzana. Anduia. Vi piace la anduia? Vediamo se scrivono qualcosina. Guardate. Nella pentola piccolina. Ho avattato il mio coperchio. Ora siete concentrati al coperchio. Sì. Forza. Forza. Che pianto da 10. Palma. Grazie. 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 Le spese di spedizione. Sono le spese signora che troviamo ovunque e dappertutto. Le spese non le decidiamo noi. Sono i corrieri. Per questo io dico. Per risparmiare. Non basta quelle. Noi ordiniamo tante cose da internet. L'altra volta per un oggettino di 7 euro. Che ho comprato su internet. Ho pagato 15 euro di spese. Però io il pezzo lo volevo. E la 15 euro non mi interessava. Perché anche i corrieri devono mangiare. Quindi già a prescindere. Uno gli dice. Ma sono le spese normali che si trovano. Se andiamo a fare un pacco anche alla posta ci sono anche le spese. No? Io vi consiglio con carta. Solo se è il 90. Poi fate voi. Ognuno è libera di scegliere la tua persona. Io adoro il piccante. Sarà buonissima. Mamma. Mamma. Provatela signora. Ma che vuoi di caffè? No. Questo è uno spettacolo. Cioè vi dovete fare poca pasta. Perché se ne fai tanto la mangi. Beh grazie signora. È giusto come costa. Brava. Brava in effetti. Hai ragione. Le spese sono uguali dappertutto. Brava signora. Complimenti. Quindi. Decidete quello che più vi viene meglio. Io la ripeto un'altra volta. Ma è una scelta personale. Semplicemente sei il 90 pagando con carta. Una poste pay. Semplici poste pay. L'estero si. L'estero ha dei costi diversi. Quindi contattate per le consulenti che vi diranno. L'estero ha dei costi di dogana e quant'altro. Quello. Purtroppo. Ma qua in Italia. Per tutta Italia. E non solo. Sardegna. Sicilia. È un prezzo diverso. È vero. Ma Germania. Le altre zone. Brava. Sì sì sì. Ha ripetito la mia collega il prezzo che ho detto prima. Che da listino. 99,90. E oggi è 29,90. Che volete più della vita? Un Magikuga? Top. Bravissima. Grande. Quindi. Compratevelo ora. E poi mi direte. Aveva ragione Palma. Il quadondo si adatta per tutto. Alexa. Quanto tempo è rimasto? Allora. Ci siamo quasi. Guardate qua. Si vede? Che meraviglia. Allora. Poi dipende dall'anduia. Potete mettere. Eh. L'anduia di spilinga. Io ho trovato questa. Eh. Locale. Che è molto buona. Quindi può darsi che magari. Qualche. Induia. Potrebbe essere più rossa. E quindi. Ecco qua. Giusto per schiacciare un po' la melanzana. Potete farla un po' più piccola la melanzana. Non c'è bisogno. Facciamo accettare la coltura. L'anduia. Ti amo. Brava. Bravissimo. Un prezzo regalo. Visto che adesso si avvicina il periodo. Che poi. C'è Natale. Tutte le altre. Festività. Perché non regalare un ottimizzatore? Perché non approfittare ora? Ah. 29,90. E farete contende tantissime donne. Che lo useranno in cucina. E sapete la cosa bella? Ogni quattro volte che useranno il coperchio. Vi diranno grazie. Guardate. È un bel regalo che mi ha regalato la mia amica. Guardate che bel regalo che mi ha dato la mia amica. Tutti i giorni si ricorderanno di voi. Quindi un bellissimo regalo. Anche se sia maravosto. Qual è il problema? Vogliamo regalarlo? Approfittate ora. Ciao. Ciao. Sì. Dalla Calabria. Infatti calabrese sono anch'io. Ok. Quindi pensateci. Pensateci un po'. È un'ottima idea regalo. Lo prendiamo per noi e perché no? Anche per regalarlo a qualcuno. Sì, sì. Coperchio qua tondo. Perché qua va sul quadrato e va sul tondo. Ok. Io vado a leggere se c'è qualche domanda. che oggi non c'è il mio lettore ufficiale. Mi sento persa. Senza il mio lettore ufficiale. Ok. State taggando. Alexa stop. Ok. Vi faccio vedere. Quindi ho cucinato su un pentolino più piccolo. con il mio cotondo che è un coperchio 30 su un pentolino 24. Spettacolare. Ok. Io lo poggio qua. Perdonati. La pasta è pronta. Et voilà. Guardate che meraviglia. Guarda. Mamma mia ragazzi. Che meraviglia. Che caraviglia. Guardate un po'. Ditemi. Con un po' di formaggio sopra. Ora lo lasciamo così. Molto semplice semplice. Guardate. Che meraviglia. Quindi. Una meravigliosa. Ricetta. Dalla Calabria. Con furore. Con l'anduia. Bella piccante. Perché io amo la piccante. Ma c'è anche l'anduia dolce. Poi fate voi. Io amo la piccante. Se non è piccante. Metto la piccante. E una ben padella normale. Che abbiamo anche noi. Non c'è problema. Questa è della linea perfetta. Perché io adesso. Ho solo. Prendo le Magic Cougar. Vedete. Questa non è il Magic Cougar. Io tranquillamente. Adatto il mio coperchio. Ripeto. Si adatta. In qualsiasi. Misura. Faccio vedere di nuovo. Nella pentolino 20. Perché no. Un pentolino 6. Vedete un po'. Si vede. Perfetto. L'importante è che i fuoriventuri. Siano all'interno. E siamo a posto. Oppure ho comprato aria. Posso adattarlo. Ho dimenticato il coperchio piccolino. Perché l'ho comprato completo. No problem. Guardate su aria. E siamo a cavallo. Spettacolare promo. Anziché 99,90. Sarò oggi. Per due ore. A 29,90. Mi raccomando. Scrivete. Sonteggiato. Lo voglio. Si. Lo voglio. Quindi lo staff. Per mettere in contatto. Con la vostra consulente. E. Auguri. Perché sono acquista. Vi mando un bacio. Un saluto. Vi auguro. Un pomeriggio. Che dirvi. A me buon appetito. Con la pasta. Con l'anduia. E melanzana. Un bacio. Ciao. 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 Ciao.